La giunta propone al Consiglio Comunale, che è l'organismo deputato, per prendere la decisione definitiva di mantenere invariato l'aliquota sulla prima casa, sulla casa di abitazione allo 0,4, mentre propone un incremento di due punti percentuali dallo 0,76 allo 0,96 per le seconde e le terze case, per gli opifici e per gli edifici commerciali, con due importanti abbassamenti di aliquota che danno un segnale molto chiaro a favore della locazione, vale a dire 8,6 anziché 9,6 nel caso di utilizzi in affitto in locazione sia per ragioni familiari ma anche per motivi legati alle attività economiche, ai negozi e allo 0,66 invece per quelle abitazioni che sono date in locazione tramite i patti territoriali, che sono patti sottoscritti tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni sindacali degli inquilini. In questo caso ricordo che l'amministrazione comunale in realtà non solo ha un minore gettito ma deve garantire allo Stato il minore gettito che percepisce, quindi è stato un impegno molto forte questo che abbiamo messo a favore di coloro che mettono in locazione le proprie proprietà.